E' finita ragazzi, la Juventus vince per 0-1 sul campo del Napoli, scusate il pigiama raga però è soli 10.45 pure per me, stasera c'è un po' sonno quindi mi venivano a dormire, quindi ho un pigiama molto molto decoroso, fra l'altro è Natale, intanto Piana mi fa partire i video vicino. Niente, la Juventus vince sul campo del Napoli per 0-1, dico la verità, non me l'aspettavo, ma non perché la Juve non fosse forte, anzi è campione d'Italia, la conosciamo tutti, però mi aspettavo il Napoli più cinico perché sapevi che una vittoria o un pareggio ti poteva permettere di staccare o di tenere staccata la Juventus. In questo caso la Juventus ti si riattacca al culo a meno uno, la Roma ti si riavvicina perché la Roma a meno 4 dal Napoli, a meno 3 dalla Juve e c'è una partita in meno che non vincerà facilmente perché va a Genova con la Samp e la Samp in casa è durissima. Però comunque sapevi che vincere o comunque pareggiare almeno era d'obbligo e questo il Napoli non ha fatto, segna Higuain, voglio sapere una cosa regal, al di là di tutto, ma quando la Juventus fa firme con il tratteggiato c'è scritto dovete copiare l'esultanza di qualcuno, no perché Tevez che fa la mitraglia sotto la curva della Fiorentina poi la fa anche Pogba, Higuain che fa così, boh non lo so, copiate le esultanze, a parte i scherzi. No vabbè, secondo me la Juventus ha meritato di vincere, il Napoli fa praticamente niente, la Juventus si chiude dietro bene e riesce a ripartire. Qualcuno mi ha fatto ridere perché poi ha detto tipo la Juventus ha fatto gol e poi si è messa al risparmio energetico avanzato, ma in realtà ragazzi è così perché difficilmente la Juventus sarebbe riuscita a fare tre punti al San Paolo se non avesse giocato così. E infatti è giusto aver fatto così, la Juventus in un modo o nell'altro riesce a coprirsi, coprire bene gli spazi e ripartire sugli esterni, il Napoli fatica moltissimo e quindi tutto sommato è meritata. Io in un posto ho detto la Juventus si riapre il campionato e ho detto tipo ma quando mai è stato chiuso ragazzi? La Juventus aveva quattro punti sotto al Napoli, un pareggio oggi avrebbe significato di rimanere a meno quattro dopo lo scontro diretto, una sconfitta oggi avrebbe significato di andare a meno sette. Se la Juventus oggi secondo me, io l'anno scorso, cioè no due anni fa quando la Juventus era a meno 12 o a meno 13 dalla prima, dissi per me la Juventus vince lo scudetto, io non so Gesù Cristo, non so nessuno però è a mio parere. Quest'anno vi dico che se oggi il Napoli, stasera il Napoli avesse vinto la Juventus sarebbe stata a tutti gli effetti fuori dai giochi perché il Napoli quest'anno corre, oggi non era in partita, oggi ha giocato male, la Juventus ha giocato meglio e ha meritato di fare tre punti e adesso il campionato si riafre, domani addirittura se l'Inter dovesse vincere andrebbe primo. Molto molto bello. Volevo concludere con una cosa ragazzi, questa sera secondo me, che poi non ha influito nel risultato, c'era un cartellino rosso per Mertens, per doppia munizione su simulazione che non è stata data. Purtroppo però, come potete vedere, gli errori ci stanno, a me oggi pomeriggio mi avete martoriato perché Strootman ci aveva metà corpo fuori gioco, purtroppo però il calcio di rigore per la Spal non esisteva, purtroppo però a Genova mi mancano due rigori, uno nel primo tempo per mano, netta di un giocatore, e un altro su De Frel. Ma io sono stato zitto, al massimo ho detto guardate il VAR, mi ho parlato della mia squadra. Regà, non ve la mentate sempre, che fegato, se no, pam, a fine anno ve scoppia. Detto questo, vi ringrazio come sempre per la visione, fatemi sapere come avete visto voi, Juventus-Napoli, anzi Napoli-Juventus, se secondo voi il Napoli continuerà questo percorso verso lo scudetto, se adesso la Juventus, dopo questa vittoria, prenderà morale e comincerà a vincere. Io come sempre comincerò a vincere nel senso, beh, non è che a me si è messo di vincere, però nel senso comincerò a staccare le altre, a parte che non è ancora prima. Io vi ringrazio come sempre per la visione, buon scelanale e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ragazzi, scusate per il pigiama, ma è Natale pure per me.